Pertenza a Gamm, i sindacati di CGL, Cisle, Wille e i rappresentanti dei lavoratori hanno chiesto alla regione di utilizzare ogni canale anche informale per velocizzare l'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico. Una richiesta formulata al tavolo di ieri in giunta regionale, dopo che Toma aveva comunicato che la convocazione dell'incontro al Mise era stata sollecitata di nuovo il 22 agosto. Intorno al tavolo di via Genova si sono seduti sindacati, rappresentanti dei lavoratori, lo stesso governatore, l'assessore Mazzuto e i direttori del dipartimento primo e terzo e quello del servizio politica e del lavoro. Ma io veramente oggi sono ancora più preoccupato di prima perché oltre a non avere la convocazione che mi aspettavo, che già stava sul tavolo la convocazione del Ministero, non è stata fatta nemmeno una richiesta che sono già penso 4-5 mesi fa che l'avevamo fatta, la profilazione dei lavoratori. La profilazione è una cosa molto importante per cercare di risolvere questa drammatica situazione. Un lungo incontro, alla fine la regione si è impegnata ad attivare la procedura di profilazione dei lavoratori della GAM tramite centri per l'impiego dal lunedì 9 settembre e le parti hanno deciso di aggiornarsi all'esito di questa procedura da completarsi comunque entro la prossima settimana. È stato detto essendo essa indispensabile per l'istruttoria dell'incontro al Ministero. Ma guardi io sono un po' scettico, io mi auguro che entro la prossima settimana si riesca a fare tutto perché adesso non ci sta più tempo da perdere, basta le chiacchiere, basta le promesse e anche la parola volontà adesso non ci piace più. Adesso ci vogliono le certezze perché siamo proprio in ritardo di parecchio. Ripeto sono scettico, mi auguro che si faccia però non vedo come i tempi di questa profilazione che sono molto lunghi secondo me. I tempi stringono e i lavoratori non possono né vogliono aspettare ancora. Ma noi ripeto siamo arrivati troppo tardi, oggi mancano 25 giorni dove potrebbe succedere quella catastrofe del rientro in Solagda, praticamente licenziamento. Noi a questa data non ci vorremmo arrivare con questa soluzione e quindi allerteremo subito i nostri sindacati confederali e di categoria, faranno una richiesta di incontro prima possibile alla prefettura che è il massimo organo che oggi può interlocuire anche con il Ministero. Ma non solo, qui si parla di un disastro sociale a tutti gli effetti e molto probabilmente saremo disponibili anche a ridare le teste elettorali.